Ciao a tutti e bentornati al mio canale Assistenza Informatica Online. Allora, oggi vedremo, insomma, di parlare sempre di piccole frasi che possono arrecare, come per esempio in questo video, un danno anche economico a chi produce questi programmi. Quindi, comunque, soffremiamo sempre il video, ci soffremiamo in questo video, sempre nel significato di alcune piccole paroline. In questo caso oggi ne diremo soltanto quattro, tutte e quattro, molto negative nell'ambito dell'informatica. Però, per capire meglio, partiamo un pochettino, andiamo un pochettino al ritroso. Allora, quando ovviamente nei video, sempre, anche io stesso, faccio vedere un video piuttosto che un altro, nel fare il suo download in maniera free, gratuita, abbiamo visto, insomma, i classici programmini open source, quindi che sono quelli gratuiti, piuttosto che quelli a pagamento. Però, soffermiamoci sui programmini, quelli gratuiti. Allora, questi programmini, ovviamente, da chi vengono fatti? Questi programmini vengono fatti, ovviamente, da programmatori, quindi da gente esperta, da ingegneri informatici, gente esperta, ovviamente, che ha studiato veramente anni e anni e anni per diventare programmatore. Quindi, assieme al loro team, o anche che sia singolo, fanno un programma. Giustamente, questo programma, ovviamente, avrà delle spese, comunque, anche se vengono pagate molte persone, quindi, se fa parte di un team, o se è solo, comunque, avranno sempre delle spese. Quindi, comunque, fra virgolette, non è nemmeno dovuto il fatto di trovare programmini open source. Quindi, dobbiamo soltanto, sempre, ringraziare queste persone che offrono il download dei loro programmi in maniera gratuita. Molte volte potete vedere, su proprio questi siti che offrono i programmini in maniera gratuita, qualche volta c'è in alto, a destra, a sinistra, o anche nel basso, la donazione, appunto perché sono programmi, insomma, che non vengono pagati, quindi che gli utenti finali, ovviamente, prendono da internet, però senza uscire nemmeno un euro. Quindi, in questo caso, loro danno la possibilità, comunque, a persone che vogliono, insomma, di lasciare una donazione, tramite, insomma, una specie, ecco, di bonifico, di un pagamento online, comunque. Quindi, si parte dal presupposto che dobbiamo solo ringraziare queste persone che comunque forniscono questi programmi. E comunque, nei miei video, insomma, non so quanti ne ho fatti, saranno, credo, più di 40 ormai, si parla molto di programmi gratuiti, perché abbiamo detto che il mio canale è basato anche molto sul gratuito, su gente, insomma, che non sa ancora utilizzare bene il PC. Quindi, se già una persona non sa utilizzare il PC, è necessario andare a proporre anche un programma a pagamento. Quindi, magari vengono agevolate quelle persone, insomma, anche in cui la situazione economica è magari medio-bassa. Quindi, e anche perché comunque abbiamo visto che ci sono veramente programmi gratuiti e sono veramente fatti bene, addirittura che molte volte sono meglio di programmi a pagamento. Certo, non sempre, però, devo dire che molti programmi open source sono veramente, veramente fatti bene per quelli che poi devono fare. Quindi, ricollegandoci al discorso precedente, tutte queste persone, quindi tutti questi programmatori, fanno questi programmi gratuiti. E non è dovuto, perché ripeto, che se io, per esempio, dovessi, fossi un programmatorio, sono soltanto un tecnico hardware, quindi fossi un programmatore e magari facessi un programma di quello bellissimo, insomma, funzionale, eccetera, eccetera, avrei pure il dubbio di metterlo in maniera gratuita, quindi perché ovviamente uno deve sopportare dei costi e quindi, insomma, per pagarsi un po' le spese e poi perché anche perché dico uno quando lavora deve guadagnare. Per guadagnare magari lo metterebbe in maniera a pagamento. Quindi in questo caso, dico, ringraziando sempre tutte queste persone che forniscono tutti questi programmi in maniera gratuita, già abbiamo visto, insomma, il lavoro dietro che c'è su un programma singolo gratuito. Quindi già dallo studio, dalla laurea in materia, per poi andare proprio a far parte di questo team per creare tutti questi programmi. E questi sono i programmi in maniera gratuita che noi preleviamo senza uscire un euro. Per poi andare a parlare dei stessi programmi che si trovano a pagamento. Quindi lì già sono programmi davvero molto e molto professionali rispetto a quelli gratuiti, quindi fanno molte più cose lì per esigenza veramente, veramente, prettamente economica si deve pagare il programma. Quindi lì al 100% insomma la cifra viene richiesta. Poi addirittura ci sono programmi veramente, veramente costosi perché il lavoro che fanno è davvero impressionante. A partire per esempio dai famosi programmini che abbiamo visto, insomma, di editing video. Possiamo vedere la differenza fra un programmino fatto free e sempre noi ringraziamo quei programmatori che lo mettono in maniera free per poi passare invece ai programmi a pagamento come per esempio Adobe che costano veramente moltissimo o anche gli stessi Movavi o altri tipi di programmi. Quindi questi di qui prende, essendo che offro una miriade di settaggi e tutte quelle possibilità che noi possiamo andare a fare su un programma, in questo caso per esempio di video editing, però potrebbe anche essere visto come programma per esempio di foto con un, per esempio, un The Gym che è gratuito contro un Photoshop che, avete visto insomma, cosa potrebbe fare il Photoshop è veramente il non plus ultra per quanto riguarda il reparto, il comparto fotografia. Quindi lì ovviamente si chiede una somma di quella che può essere medio, medio bassa o medio alta. Lì sono dove si programmi che fanno questi tipi di lavori sono sempre medio alto oppure addirittura in abbonamento. Ma voi dite perché stai facendo tutto questo discorso di programmi e di prezzo, perché queste quattro famose paroline che io ora vi dirò, prende e distruggeranno in pochissimi secondi, dipende dall'utilizzo che se ne fa, tutti i programmi sia gratuiti, quindi quelli che i programmatori insomma danno in maniera gratuita nel sushione euro, sia quelli a pagamento che hanno ancora un danno maggiormente economico. Quali sono queste quattro paroline e di cui vi dico sempre di starvene alla larga, perché è giusto che chi ha studiato e chi ovviamente mette in mercato dopo tutti questi sacrifici abbia diritto comunque a un riscontro economico. Queste quattro paroline, incominciamo dalla prima, che sicuramente avete sentito dire, però magari molte persone nemmeno sanno il significato, nemmeno sanno il danno che vanno a combinare a questi programmi, a questa gente tutta che lavora, a questo team che lavora alle spalle. La prima parolina è la famosa crack, la seconda parolina è la famosa patch e la terza e la quarta sono insomma due quasi simili che fanno super giù lo stesso lavoro, se non prettamente uguale, e sono key finder e key generate. Quindi prende queste quattro famose paroline, distruggono immediatamente il lavoro che c'è dietro tutti questi software. Perché? E mi dico sempre di stare all'alaria, perché dobbiamo sempre, ricordiamoci, acquistare programmi originali, quindi non utilizzare queste quattro vocine per farli diventare non originali, quindi aggirare il problema della somma di denaro, dell'uscita della somma di denaro. Allora, partendo dalla prima, prende la crack e la patch che sono sempre simili, quindi non è altro che andare a inserire un determinato file, che può essere un file dll, che può essere un eseguibile, che può essere un command, insomma qualsiasi tipo di file che troveremo all'interno di questi programmi, che ovviamente non sono presi dai siti originali, ma sono presi da altri siti esterni, insomma, che fanno questo tipo di smistamento di programma, quindi diverso dall'originale. Sono in sostanza questi file che vengono sovrascritti a quello originale, che magicamente renderanno i programmi non più a pagamento, quindi non a scadenza, quindi magicamente ci ritroveremo un programma prente nostro di proprietà non pagato. Quindi, come potete ben capire, il danno è enorme di quello che si fa, quindi per questo, insomma, quando voi vedete, può essere sempre appetibile una cosa del genere, però è completamente un illegale, quindi si rischia veramente tantissimo, e poi, appunto, per sempre ricollegarci al discorso di prima, butteremo in aree tutto il lavoro che viene fatto dai programmatori e che comunque forniscono questi splendidissimi programmi a cui dobbiamo soltanto dire sempre grazie, dobbiamo sempre ringraziarli a vita per il lavoro che fanno. Lo stesso, per esempio, vale anche per gli antivirus, quindi non solo per i programmi di editi, quindi qualsiasi tipo di software. Quando una casa di sicurezza mette, per esempio, in vendita un antivirus, quindi aiutando, insomma, noi a rimanere in totale o quasi totale sicurezza, dobbiamo solo che ringraziare questi programmatori, però se noi lo distruggiamo il lavoro dei programmatori andando a inserire delle patch o delle crack sopra questi antivirus, quindi non rendendoli più effettivamente originali, ma rendendoli fittizi originali, abbiamo soltanto che distrutto il loro lavoro, quindi il lavoro che fanno le crack e le patch, oserei dire, anche un cattivissimo lavoro, è proprio questo lì qui. Per poi, insomma, andare a parlare invece delle, abbiamo detto, dei key finder e key generate, i prent hanno lo stesso scopo della crack e della patch, solo che lì i prent sono dei veri e proprio mini tool, vengono chiamati quindi mini programmini, che sono di solito non applicativi, ma sono la maggior parte programmini portatili, quindi che vengono attivati all'occorrenza, che tendono a trovare nella media del dark web, insomma, del tutto il mercato orrendo che c'è dell'informatica, a trovare proprio tutti quei seriali da andare a inserire in quel programma che noi stiamo per installare, che vogliamo, tra virgolette, insomma, andare a patchare o a crackare. Quindi in questo caso i key finder e key generate generano proprio dalla stessa, lo stesso nome lo dice, quindi il generatore di chiavi, genera appunto dei seriali, abbiamo detto, da andare a inserire in automatico in questi programmi. Quindi ricordiamoci sempre, queste piccole quattro parole, sono solo quattro, ma sono veramente dannose per il mercato dell'informatica. Quindi state lontani da key finder, key generate, crack e patch. Quando vedete che non siete sicuri di andare a scaricare un programmino, chissà da quale negozio online, è trovato all'interno questi quattro file, è sempre meglio immediatamente andare a accessinare, eliminare tutto. Io dico sempre che chi non vuole acquistare un programma perché insomma è esoso, insomma la spesa è alta ed è a pagamento, vi ricordo sempre che ci sono le alternative in maniera gratuita, quindi accontentiamoci casomai di quello che offrono i programmi gratuiti. Lì possiamo fare quello che vogliamo, perché ringraziando sempre tutti questi programmatori che danno a noi insomma dei programmi gratuiti, quindi se già dobbiamo andare a commettere insomma un lavoro del genere orrendo, almeno andiamo invece sui programmi gratuiti che lì vengono dati già in maniera gratuita, bello e pulito. Sempre ringraziando il programmatore e tutto il team che lavora dietro a questi programmatori. Quindi detto ciò insomma, spero che questo video sia stato utile, perché avete almeno conosciuto il vero significato di queste quattro paroline e soprattutto del danno che queste piccole paroline fanno in tutto il mondo dell'informatica. Ciao a presto al prossimo video.